Consueta rubirica mensile sui nostri investimenti e sui nostri dividendi, questo mese ovviamente parliamo di settembre, è stato un mese abbastanza tranquillo, vediamo subito nel dettaglio cosa è successo. Ciao a tutti, io sono Domenico e questo è Vivere di Dividendi, il progetto di educazione finanziaria e di investimenti che ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi di vita, quindi se ti interessa l'argomento finanza, investimenti, obiettivi personali, clicca adesso mi piace su questo video per supportare il canale ed iscriviti attivando la campanella per rimanere sempre aggiornato. Vediamo subito nel dettaglio invece cosa è successo appunto nel mese di settembre, abbiamo acquistato un solo titolo, nello specifico abbiamo acquistato il 4 di settembre, abbiamo acquistato Carnival Corporation e vi lascio qui sotto in descrizione il link per vedere l'analisi del titolo, l'abbiamo acquistato a un prezzo di carico di 35,02 pound perché abbiamo acquistato il titolo appunto quotato sulla borsa di Londra, il titolo è andato un po' su e giù con il prezzo, infatti pochi giorni dopo l'acquisto è schizzato a più 10% ma è poi tornato subito al ribasso prima con delle notizie relative a degli aumenti di costi per quanto riguarda il carburante per le note vicende che sono successe in Arabia quando hanno fatto saltare in aria quell'impianto pretolifero quindi con l'aumento relativo del costo del carburante che rappresenta il 15% delle spese sul conto economico di Carnival Corporation quindi il prezzo è cominciato a scendere e ha avuto un crollo definitivo praticamente oggi siamo al 2 di ottobre con il crollo dei mercati che c'è stato appunto oggi quindi il prezzo aggiornato ad oggi è 31,9% e qui registriamo una perdita netta adesso al 9% praticamente quindi il nostro dividendo comunque ci rimane al 5% e il dividendo che sta erogando Carnival Corporation in questo momento. Parlando di dividendi abbiamo riscosso invece nel mese di settembre il dividendo pagato da Intel. Intel l'avevamo acquistata ad un prezzo medio di carico di 46,16 dollari, ha staccato un dividendo di 0,26 e 77 dollari ad azione ovviamente e quindi siccome il dividendo è pagato, un'azienda americana lo pagano trimestralmente abbiamo un importo praticamente al 2,3% per quanto riguarda il dividendo di Intel. Il titolo è scambiato ad oggi a circa 50 dollari ad azione quindi abbiamo un risultato sul capitale del più 10%. Andiamo a vedere quindi come si è aggiornato il nostro portafoglio dopo l'acquisto di settembre su Carnival Corporation. Sul portafoglio abbiamo sempre come una massima esposizione su Fope al 15,5% e qui abbiamo praticamente una variazione nulla sul prezzo perché è rimasto sostanzialmente stabile. Poi abbiamo East West Bank con l'11,5% del portafoglio e qui registriamo un meno 3%. Alphabet quindi Google con il 9% del portafoglio e più 5% di risultato aggiornato ad oggi. Amazon 10,5% di portafoglio e meno 6,4% come risultato. Appunto Intel come abbiamo parlato al 9% di portafoglio e più 10% come risultato. Bristol Mayer anche qui 9% del portafoglio e anche qui più 10% come risultato. E poi proprio Carnival al 6,5% del portafoglio e come abbiamo detto meno 9% il risultato aggiornato ad oggi. Ovviamente vi do questi risultati per dovere di cronaca ma in realtà lasciano molto tempo che trovano perché come non abbiamo venduto Carnival quando aveva più 10% dopo pochi giorni dall'acquisto così non vendiamo anche le altre azioni che sono in profitto ma neanche quelle in perdita ovviamente perché comunque il nostro obiettivo è quello di avere una rendita finanziaria. Quindi siamo interessati più che altro ai dividendi che queste azioni erogano. Piuttosto invece proprio le quotazioni quelle che sono magari in perdita in questo momento sono le più papabili per successivi acquisti. Infatti per quanto riguarda la watch list che abbiamo di ottobre vi invito innanzitutto a votare sul sondaggio che trovate qui in alto o a sinistro o a destra non lo so. Quindi abbiamo come prima opzione proprio Carnival Corporation sulla quale vogliamo aumentare le nostre quote. siamo adesso abbiamo detto in perdita del 9% comunque il prezzo è crollato quindi diventa una delle primissime papabili per il nostro aumento di posizioni quindi per gli acquisti di ottobre. Seguono ovviamente Fope sulla quale vogliamo anche qui aumentare le nostre quote però Fope ha un prezzo comunque stabile quindi magari aspettiamo un rialzo dei mercati e a quel punto possiamo acquistare Fope che comunque ha un prezzo stabile indipendentemente dal mercato. Abbiamo poi ovviamente Gazprom che è sempre lì in attesa per un acquisto quindi comunque un'azienda molto importante e molto solida con un dividendo al 7% ed infine anche Richmond che ha avuto anche lei è stata colpita ovviamente dai ribassi di ieri e oggi e quindi ha un prezzo molto invitante sotto i 70 franchi svizzeri. Quindi una quotazione molto importante per Richmond. Abbiamo un dividendo su Richmond di circa il 2-2,5%. Su Carnival abbiamo già detto che siamo intorno al 5%, Gazprom al 7%, Fope anche qui siamo intorno al 5% di dividendo. Per chi vuole approfondire su Carnival, Gazprom e Richmond abbiamo già fatto le analisi delle relative aziende, ve le lascio sempre qui sotto in descrizione. Fope non l'abbiamo ancora fatta ma la faremo sicuramente in un prossimo futuro. Vi ricordo che tutte le nostre operazioni di acquisto vengono pubblicate immediatamente sui nostri profili social quindi su Facebook e su Instagram. Vi invito quindi a seguirci anche lì soprattutto per scambiarci di opinioni sui nostri investimenti. Con questo quindi vi saluto e buon dividendo a tutti.